Oggi siamo qua in Amiata, a Badia San Salvatore, era doveroso essere qua come Movimento 5 Stelle come Vice Presidente della Commissione Ambiente e Commissione Regionale. Abbiamo portato a casa un piccolissimo risultato, cioè siamo riusciti a ottenere un impegno di tutta la Commissione nei confronti dell'assessore perché faccia l'allegato delle aree non idonee per l'installazione della geotermia. In questa risoluzione siamo riusciti a essere anche un'attenzione per l'assetto idrologico del territorio, sappiamo la fragilità che tutti i giorni soffre in quest'area e purtroppo il PD non ha accettato la proposta di inserire anche un comitato scientifico terzo in affiancamento all'ARPA e all'ARS per lavorare su questo tema e comunque noi non voleremo qua, intanto la risoluzione è un piccolo obiettivo che andremo avanti portando tutte le iniziative e tutti gli atti come abbiamo fatto dal primo giorno in Regione Toscana. Grazie Grazie Grazie